Il PD di Comiso va alle primarie di coalizione per individuare il candidato a sindaco. Ieri sera è stato sciolto il nodo nel corso della riunione del direttivo cittadino del PD Casmeneo che ha detto sì allo strumento delle primarie e individuato anche il primo candidato. Si tratta del docente universitario Filippo Spadaro, soddisfatto il segretario cittadino Gigi Bellassai. Abbiamo dato in carico all'onorevole Pippo Di Giacomo di fare una consultazione interna mentre mi sono occupato di fare una consultazione esterna con le possibili forze politiche civiche per costituire una coalizione. L'orientamento prevalente che ieri è stato comunicato al direttivo è stato quello di adire alle primarie di coalizione. Abbiamo individuato una data ipotetica per il 7 aprile, quindi con una scadenza di presentazione delle candidature il 23 di marzo e c'è già in campo per il PD una candidatura giovane, un quarantenne, il professore universitario Filippo Spadaro e sono possibili anche altre candidature naturalmente ma noi pensiamo che alla fine la decisione di adire alle primarie sia la decisione migliore perché metta in gioco tutta una serie di iniziative anche sociali e che apre alla città e alle forze politiche civiche un'idea di partecipazione diretta, di democrazia diretta perché noi vogliamo offrire una forza politica a un candidato che sia alternativo al fallimento di Alfano ma che sia anche alternativo all'antipolitica e al salto nel buio rappresentato da Grillo. Un PD che si è presentato però spaccato alla riunione di ieri, mancava infatti un'intera componente del partito quella che fa riferimento al segretario provinciale Salvo Zago. La frattura è sancita? Il PD è un grande partito che ha diverse sensibilità e secondo me le differenze in questo caso sono una grande ricchezza abbiamo candidature giovani, candidature figure possibilmente più tradizionali che hanno un altro profilo ma quello che conta è che il PD alle elezioni sarà unito, coeso e porterà avanti un progetto di cambiamento e di rinnovamento.